Scommetto che tutti noi in questa stanza abbiamo lo stesso problema. C'è un problema che secondo me tutti qua in questa stanza hanno, me compreso. Vale a dire, chi indovina quale? Più o meno questo, che il software non viene mai consegnato quando lo vorremmo. Siamo sempre in ritardo a consegnare. Questa è più o meno una costante di tutti i team di sviluppo. È vero o no? È vero. Allora, per lanciare la discussione, Jason Gorman suggerisce tre cose che di solito si fanno che non funzionano. Si aggiungono più sviluppatori che non funzionano perché? È perché ci montiamo più tempo a fargli apprendere quello che devono fare che non a ricavare del lavoro utile da loro. Oppure tagliare angoli, che significa introdurre debito tecnico per cercare di centrare la consegna. Perché questo non funziona? È perché poi ci ritroviamo con del software pessimo e non c'è mai il tempo di andare a rimettere a posto le cose che abbiamo sporcato. E questo ci taglia le gambe nel medio periodo, ma già anche nel breve periodo è una strategia che ci taglia le gambe. Per non parlare di far lavorare gli sviluppatori un sacco di ore. In realtà non riusciamo a farli lavorare un sacco di ore, riusciamo a massimo a fargli stare un sacco di ore in ufficio. Che non è la stessa cosa che ottenere più valore. Ok, se queste cose non funzionano, siamo fregati? O c'è qualche cosa che funziona? Cosa si può fare? Allora, io almeno due cose generali che funzionano le ho trovate. E sono una, è extreme programming, e l'altra sono alcuni strumenti dal pensiero Lean. Ora, io di solito parlo di extreme programming, Lean per me è un argomento un po' nuovo, per cui inizio spiegandovi che cosa significa Lean secondo me. Mi presento rapidamente. Sono fondamentalmente uno sviluppatore software, anche se il più delle volte ormai lavoro per migliorare la capacità di produrre e di consegnare valore delle organizzazioni che fanno software. Ma fondamentalmente sono uno sviluppatore. Sono uno sviluppatore appassionato di extreme programming, di TDD, e lavoro per ThoughtWorks, che è una multinazionale che sviluppa software. Ora, Lean. Lean parte dal cliente. Devi partire dal fatto che c'è qualcuno che vuole comprare una cosa, un servizio che tu puoi fare. Concentrandosi sulle cose che questo cliente vuole comprare, analizzi tutta la catena dall'inizio della richiesta fino alla consegna. E lì puoi lavorare per ottimizzare, per togliere gli sprechi. Allora, ci sono tantissima letteratura su Lean. Uno dei primi libri che hanno accomunato Lean e software è stato quello di Mary Poppendick e faceva un parallelo fra gli sette sprechi che si trovano nella manifattura di Taichi Ono e gli equivalenti sprechi che puoi trovare nello sviluppo software. Di questi vorrei parlare di uno in particolare che è l'attesa. Ok. L'attesa è una cosa che ti allunga i tempi di ciclo. Quando sei in manifattura tu hai un sacco di cicli, macchine, lavorazioni, operazioni che vengono fatte in maniera ripetitiva. Analizzando come questa operazione ripetitiva viene fatta, tu puoi andare a capire quali parti di questa operazione sono sprechi e si possono rimuovere. Se l'operatore attende che arrivi un pezzo per poter fare una lavorazione, cerchi di togliere quel tempo d'attesa. Ora, nel software ci sono questi cicli oppure no? O ci ritroviamo sempre a fare delle cose diverse che non è un lavoro fondamentalmente non ciclico? Sì, ci sono dei cicli. Per esempio, il ciclo di leggi un'istruzione, valutala e produci il risultato. Il ciclo che ci metti è essenzialmente scrivere un'espressione e vedere il valore restituito da questa espressione. Che veniva pesantemente sfruttato dall'ambiente di programmazione come la Least Machine 20 anni fa. Ancora oggi, per chi ha la fortuna di lavorarci, viene sfruttato nello small talk. Tu hai una capacità immediata di valutare un pezzetto di codice e vedere cosa succede. Ora, negli ambienti di programmazione che usiamo quasi tutti, tipo Java, .NET, eccetera, questa cosa un po' ci è stata tolta. Cioè, corri il rischio che ci voglia un sacco di tempo fra faccio una modifica e vedo come funziona o come non funziona questa modifica. Ah, poi un altro ciclo molto importante è quello del TDD. Scrivi un test, lo fai passare e rifattorizzi. Questo è un altro ciclo che si può ottimizzare. Ma il ciclo che mi preme in questo momento è questo ciclo importantissimo di faccio una modifica, compilo, eseguo, vedi il risultato, faccio un'altra modifica. Questo ciclo viene pesantemente attaccato nella programmazione Enterprise dal fatto che abbiamo degli ambienti di programmazione che ci mettono un sacco di tempo a partire. Per esempio, un'installazione normale di Tomcat senza troppa roba installata dentro ci mette 30 secondi a partire da zero. Un Drop Wizard o anche Spring Boot sono molto meglio, in uno, due o tre secondi riescono a farmi vedere qualcosa di funzionante. Si può fare molto di meglio se tu utilizzi direttamente la libreria di Getty e scrivi un programma di 30 righe che interagisce con Getty, sei in grado di far lanciare la tua servlet in meno di un secondo. Il tempo è praticamente impercettibile. E questa è una tecnica che ti permette di risparmiare un sacco di tempo, perché se tu pensi a tutte le volte durante la giornata produttiva, immagina la situazione, sei uno sviluppatore, hai fatto lo stand-up meeting, hai fatto la riunione con gli sviluppatori, hai fatto altre riunioni, hai guardato la posta, hai risposto alle email, hai preso il caffè con i colleghi, Quindi, finalmente sei seduto alla tua scrivania, hai di fronte il tuo idea o il tuo eclipse e puoi finalmente lavorare. Ora, se tu pensi a tutto il tempo che è stato sottratto dalle tue autore lavorative per essere veramente seduto di fronte al computer e programmare, se sei fortunato te ne restano quattro. Di queste quattro, quanta parte stai buttando via ad aspettare che il sistema riparta? Allora, se vogliamo fare un'ottimizzazione lean del lavoro dello sviluppatore, si tratta di fare in modo che lo sviluppatore sia in grado di pensare, digitare e vedere il risultato di quello che ha digitato. La triste realtà è che la maggior parte dei framework Java che utilizziamo remano contro, cioè fanno di tutto per evitare, per allungare questo tempo di partenza della nostra applicazione. Ok, questo era un primo esempio di come applicare il pensiero lean allo sviluppo software. Ho un secondo esempio. Il secondo esempio è tratto da un libro che si chiama The Toyota Way. Toyota Way è un libro che descrive come lavora Toyota e sintetizza in 14 principi quello che Toyota raccomanda, mette in pratica per ottenere i risultati straordinari che ottiene. Di questi ce n'è uno che mi ha sempre colpito. Numero 8. Usare soltanto tecnologia affidabile, perfettamente testata, che serve bene la tua gente e il tuo processo. Ok, tecnologia estremamente testata. Il mio amico Demis dall'altra parte stava parlando di tecnologia che lui ha usato per il suo progetto di hobby, che era stata consegnata la settimana stessa. E chiaramente c'è un diverso punto di vista, no? fra chi vuole sempre essere aggiornato alle ultime release di tutto quello che esce e la necessità e l'utilità pratica, economica, di lavorare con tecnologia che non dà sorprese. Questa è una mail che ho visto passare su una mailing list aziendale. È abbastanza tipica di quello che pensano i programmatori più giovani soprattutto. È tutto un... stavamo usando il framework X, ma adesso pensiamo che sia un po' una merda e passiamo al framework X primo, e fra qualche settimana passeremo al framework X secondo. È tutto un ciclo di yeee, no, yeee, no. Ora, questa cosa è sicuramente molto divertente, non dubito che ci sono un sacco di idee nuove e interessanti da imparare da tutti questi nuovi framework che escono, ma nell'interesse di consegnare software nei tempi in cui il nostro cliente vuole il software, questa cosa ci ostacola, ci rallenta, perché tutto il tempo che spendi a imparare, prima di tutto, a fare le riunioni per decidere quali framework si usa. Poi a imparare questi framework, a imparare i loro limiti, a imparare come aggirare i loro limiti, a scoprire che funzionalmente ci siamo, ma non ha le performance che vogliamo. Sono tutti, da un lato sprechi, dall'altro rischi. Il rischio è di trovarti a un certo punto che il tuo framework non ti segue per fare la cosa che tu hai bisogno di fare. Nella mia modesta esperienza, io penso questo, che qualsiasi cosa tu faccia con AngularJS facevi molto più velocemente a farla generando l'HTML, come si faceva un po' di anni fa lato server. Se parliamo proprio in tempi di tempo di consegna, poi ci sta che un'applicazione fatta con JavaScript può essere più interattiva e più responsiva di HTML pur generato lato server. Però questa è una cosa a cui non puoi non pensare, se il tuo pensiero è soddisfare quel famoso cliente e dargli quello che vuole, in modo che lui possa dare a noi i suoi soldi. Un'altra cosa che è un dubbio che mi perplime è questo. Sì, va bene, scala, bello, potente, tutto quello che vuoi, ma alla fine, fra l'altro scala rema contro al principio di ridurre i tempi d'attesa, perché i tempi di combinazione di scala sono glaciali. In confronto a Java, che è praticamente istantaneo, scala è lentissimo. Quindi, il mio modesto pensiero è questo, che se si tratta di quello che tu puoi imparare applicando nuove tecnologie, c'è un potenziale, senz'altro, di crescita. Ma è un po' come dire, uso una bicicletta da 10.000 euro, però più di 3 chilometri senza farmi venire il fiatone non riesco a fare. Cioè, prima di andare a lavorare di fino su delle tecnologie molto avanzate, hai molto spazio di crescita e di miglioramento e di guadagno lavorando sulle tue skill proprio di programmazione. Sto parlando proprio di strutture dati, algoritmi, conoscenza dei sistemi operativi. Sono cose che ti danno un boost di produttività che è molto maggiore, molto più duraturo di quello che puoi ottenere provando a vedere se questo nuovo framework è veramente così fantastico come sembra. E quindi, la mia massima è che l'Angular, React, eccetera, siamo buoni tutti a impararli, ma la cosa che vedo molto più difficile da imparare è consegnare il software nei tempi e nelle maniere in cui il cliente lo desidera. Questo è più difficile, l'ho visto molto raramente e non ti sto a dire che è sufficiente imparare un po' di strutture dati e algoritmi. C'è molto di più, devi affrontare il problema da tanti angoli. Quello che voglio dire è che il framework è più un ostacolo che un vantaggio da questo punto di vista. A meno che non sia il tuo framework, quello che conosci come le tue tasche e che hai dimostrato rendere estremamente produttivo il tuo team, forse. Questo per dire, che non sto raccontando palle, il progetto di maggiore successo che ho fatto quando ancora programmavo, ero molto in zone, abbiamo lavorato con una singola servlet. Non abbiamo usato il trucco di usare Jet Embedded perché il cliente ci ha posto il vincolo di usare Tomcat, ma fondamentalmente il nucleo dell'applicazione era questa qui, una servlet che a seconda della URL che arrivava in ingresso decideva quale controller invocare. Il controller era una classe definita da noi e questo router era una classe che ha realizzato in cento righe con una tabella che faceva corrispondere al prefisso della URL un certo controller e così via. È una cosa che ci siamo sviluppati nel corso del lavoro. fra l'altro nei primi 7-8 settimane non c'era nemmeno il router, c'era una catena di 3 IF perché avevamo 3 controllere e 3 IF erano sufficienti per consegnare quello che abbiamo consegnato e in 6 settimane abbiamo consegnato la prima versione funzionante dell'applicazione a utenti veri, utenti importanti, a clienti importanti. Bon, abbiamo visto due esempi. C'è un terzo argomento lean di cui vorrei parlarvi ed è il grail del lean, cioè il single piece flow, one piece flow. Sapete in cosa consiste? Comunque, è un concetto molto semplice. Se voi pensate che un processo è una sequenza di lavorazioni in cui c'è un certo oggetto in cui viene lavorato e subisce lavorazioni successive, ora, l'idea del single piece flow è che ogni operazione riceve il suo, costruisce soltanto, lavora soltanto sul pezzo ricevuto della lavorazione precedente. Quindi io non mi metto a fare lavori in anticipo, non accumulo nessun inventario e semplicemente c'è un singolo pezzo che viene passato da una stadio all'altro della lavorazione, quindi abbiamo una sola user story in analisi, una sola user story in lavorazione, una sola user story deployata. Questo ideale di ridurre al massimo il work in progress, questo è una leva molto potente che ti permette di aumentare la produttività del tuo team di sviluppo. Se il tuo team di sviluppo sta lavorando, sono in dieci sviluppatori, stanno lavorando su dieci user story contemporaneamente, probabilmente il work in progress è troppo elevato. E puoi fare un banalissimo esperimento per misurare quanto migliora la produttività di un gruppo di persone, se stanno tutti facendo la stessa cosa o se gli stai facendo fare dieci cose, una ciascuno. Quindi, tornando a noi, per come lavora la mia azienda ThoughtWorks, il livello di work in progress a cui ambiamo è di avere una user story per coppia di sviluppatori. Facciamo per programming, quindi se tu hai tre coppie di sviluppatori, dovresti avere tre user story in lavorazione, che è un buon risultato. Però, secondo me, si può spingere ancora di più. Se veramente vuoi migliorare la produttività, puoi arrivare al punto di avere una singola user story lavorata da sei sviluppatori? Punto di domanda. E se sì, come? Ora, secondo me, una cosa che puoi fare... Ah, fra l'altro, vi piace questo tabellone? Sì? No? Secondo voi, un team che usa questo meccanismo è un team che è avanti oppure no? Secondo me, dipende dal fatto che questo strumento sia un miglioramento o un peggioramento rispetto a quello che facevano prima. Cioè, se tu hai questo strumento e te lo tieni così com'è per tre anni, vuol dire che stai andando male, non stai migliorando. E se tu stai invece continuamente migliorando, questo tabellone piano piano lo cambi per adattarlo alle tue necessità. C'è questa famosa storiella di un sensei di Lean giapponese che viene invitato a visitare una fabbrica americana e il direttore della fabbrica era orgogliosissimo perché aveva implementato tutti gli strumenti del Lean che c'erano nel libro. Per cui c'erano queste celli di lavorazione a forma di U per minimizzare gli spostamenti degli operatori, c'era un supermarket di parti che venivano usati per assemblare, c'erano i tragitti dei muletti ottimizzati, c'era il cordone per segnalare che un operatore è in difficoltà. e mentre facevano il tour della fabbrica, il sensei osservava tutto, un anziano, vecchietto, e non diceva niente. Alla fine di tutto il tour, il direttore della fabbrica, orgogliosissimo, diceva, allora, sensei, dici, abbiamo veramente implementato il Lean come si deve? E lui ha risposto, non lo so, non posso dirlo perché io ieri non ero qui. Cioè, è proprio il discorso che Lean è il miglioramento, non è lo strumento specifico che stai usando. Quindi, sei con tre coppie di sviluppatori e tre user story. Bene, qual è il passo successivo? Come lo ottieni? Allora, questa è un'idea che è stata proposta da Arlo Belschi, si chiama planning nudo, che significa partiamo con una sola user story per volta e buttiamo sulla lavagna tutti i task tecnici che servono per completare questa user story. Quindi, non ha molta struttura questa board rispetto all'altra. Qui c'è soltanto delle feature che vogliamo realizzare, diciamo che probabilmente sono anche delle cose un pochino più cicciotte rispetto alla user story che di solito noi affettiamo molto sottile per permetterci di avere n user story per iterazione. Quindi, se parli di minimum marketable feature, quindi qualcosa che tu puoi mostrare senza farti ridere dietro al cliente, qualcosa che il cliente dice sì, è meglio, la puoi spezzare in una serie di task you pickly, buttarli tutti quanti sulla lavagna e lasciare che il team si organizzi per risolvere tutti questi task. Più o meno è l'approccio che abbiamo usato in quel famoso lavoro che vi dicevo, in cui abbiamo usato la singola server, in cui effettivamente abbiamo consegnato il software prima di quanto il cliente se l'aspettava e con pochissimi difetti. Quindi, per ottenere questo lavoro, ha un po' il problema che tutti gli sviluppatori, lavorando contemporaneamente insieme sulla stessa user story, sulla stessa feature, rischiano di pestarsi i piedi l'un l'altro. Quindi, non è sufficiente dire, ok ragazzi, lavoriamo a mucchio sulla stessa cosa. È utile avere delle maniere di strutturare il tuo codice per favorire l'indipendenza del lavoro delle varie copie di sviluppatori in modo che possano collaborare in maniera strutturata. Quindi, l'idea è, sapete la famosa legge di Conway che dice che se tu hai un'organizzazione fatta per silos tra il software fatto come dei componenti che si comunicano male fra di loro, cioè che la struttura del software riflette la struttura dell'organizzazione. Allora, tu puoi hackerare la legge di Conway e dire, se io voglio un'organizzazione fatta così, allora progetto una struttura, un'architettura di software fatta apposta per supportare quella struttura organizzativa che io voglio. Quindi, uno dei trucchi che abbiamo usato allora era questo, di usare il banalissimo pattern observer. Cioè, se tu hai, banalmente il software faceva questo, riceveva una richiesta di autorizzare un pagamento con la carta di credito, la nostra web app andava a parlare con un motore di autorizzazione il quale diceva sì oppure no e restituiamo la risposta. L'algoritmo di base era quello. Però, chiaramente, per poterlo fare correttamente tu devi tracciare con molta attenzione intanto in un log tutti i messaggi che vengono passati. Cioè, che cosa è entrato? Che cosa abbiamo detto al gateway? Che cosa ci ha risposto? Che cosa abbiamo risposto al nostro cliente? Tutte queste cose devono essere loggate intanto per legge e poi per supportare l'analisi di quando qualcosa non va bene. La stessa cosa sostanzialmente succede con il database relazionale perché tu hai bisogno di fare in modo che tutto quello che succede nel tuo sistema venga tracciato e sia utilizzabile all'interno di un database. Fondamentalmente, tutti e due questi problemi hanno la stessa forma. Cioè, devi registrare che è arrivato un pagamento devi registrare che hai mandato una richiesta di autorizzazione devi registrare che è arrivata una certa risposta devi registrare che hai dato una certa risposta nel database. Fondamentalmente abbiamo creato degli observer che venivano invocati a ognuno di questi passaggi passando tutti i dati necessari e l'observer, un observer scrivevi il log un observer registrava sul database un altro observer ancora tracciava le performance e così via. Una volta implementato questo meccanismo degli observer lo puoi usare per una serie di cose in più e la cosa bella è che ti semplifica l'algoritmo qua dentro perché non ti ritrovi tutte le sbrodolate del log in mezzo all'algoritmo che tu stai realizzando. Il log sta da un'altra parte e questo permette agli sviluppatori di avere una coppia che sviluppa il logging observer una coppia che sviluppa il database observer e li puoi anche testare se il logging è una feature che il tuo cliente ha richiesto esplicitamente non puoi trattarla come una cosa che scrivi giusto per aiutarti a sviluppare devi scrivere i test anche sul logging e quindi puoi banalmente sviluppare in TDD il tuo observer quindi utilizzando alcuni banalissimi pattern di programmazione di oggetti riesci a distribuire il lavoro in maniera che sia più parallelizzabile ok e l'effetto di tutte queste ottimizzazioni si vede si vede perché riesci a risparmiare tempo e a consegnare per tempo bene scommetto che avete delle obiezioni se non delle domande io rispondo volentieri commenti? potete anche dire che è stata una bellissima presentazione non mi offendo grazie dimmi nel bilanciare il costo di acquisire un framework piuttosto che rifare in casa un meccanismo minimale di request, controller, routing, eccetera quanto conta lo studio la mancanza di documentazione dei framework e quanto in realtà invece è semplicemente un voler procedere a piccoli passi chiaramente tutto dipende un po' dalla tua organizzazione secondo me una delle ragioni principali per cui il framework è la scelta di default è che si ha paura che la cosa che realizzi tu con le tue mani non sia altrettanto buona come quella che potresti avere col framework è per quello che io dico che ti conviene investire nella abilità di programmazione perché poi ti passa questa paura ti rendi conto che per le tue esigenze quello che hai fatto è anche migliore di quello che avrebbe fatto il framework poi è anche vero che hai se tu segui per sicuramente questa regola non cambi mai e non innovi per cui un bilanciamento di questo tipo ci deve essere per esempio ci sono alcuni team che hanno il gettone di innovazione hai un progetto ok, in questo progetto ci sono tre gettoni di innovazione a tua disposizione in cui puoi sperimentare cose nuove spendili in maniera oculata fermo restando che dal mio punto di vista quando ho da rispettare le scadenze per me noioso va bene choose boring technology altro? ma utilizzando un framework hai dietro una community che lo testa se c'è un baco te lo fixa e soprattutto tante volte introducono nuovi pattern a volte migliori di quelli che applichi tu cioè facevi il caso di Redax Redax utilizzato da Facebook ha introdotto un pattern che a mio avviso migliore è vero? se tu continui a applicare gli stessi pattern a vita è vero quello che mi chiedo è questo pattern migliore mi fa una differenza sostanziale nella mia capacità di far felice il mio cliente perché se il pattern vecchio è altrettanto buono non mi vale la pena cioè per esempio tu potresti anche utilizzare questi pattern tipo dei pattern che ottimizzano il rifresco delle memorie nelle cache del processore per ottenere un vantaggio all'interno di un'applicazione che deve avere dei tempi di reazione sotto il millisecondo o non so, pensa a quando Greg Young ha introdotto l'event sourcing è un pattern abbastanza complicato però gli ha dato un vantaggio competitivo perché realizzato uno stock exchange che andava molto più veloce dei suoi competitor se tu non sei in una situazione in cui hai bisogno di uno scatto tecnologico per ottenere un vantaggio competitivo stai probabilmente spendendo le tue energie per una cosa che non ti dà il vantaggio corrispondente poi la qualità della community varia e poi non è garantita la community perché nel momento in cui tu hai investito e hai fatto la tua applicazione con un certo framework che fra due anni è fuori moda la community non c'è più è un'arma a doppio taglio, devi stare attento non dico di utilizzare un framework qualsiasi ma se mi baso su un framework tipo Angular, tipo React che sono supportati da Facebook, da Google Angular è fuori moda Angular è già fuori moda ma non è vero, sta uscendo Angular 2 appunto, se io oggi mi metto a fare una cosa con Angular 1 che Angular 2 non è ancora uscito sono istantaneamente nel legacy allora devo aspettare che arrivi l'Angular 2 sperando che l'Angular 2 poi abbia la stessa attrazione che ha avuto l'Angular 1 ma tu presupponi che il tuo gruppo abbia coperto tutti i possibili bacchi che Angular con tutta la sua community cura ma guarda migliaia di sviluppatori contro un gruppo di 10 persone ma la mia ambizione è molto più piccola io devo risolvere i problemi di un cliente Angular deve essere il framework definitivo per tutto il mondo è molto più difficile come problema il mio problema è più piccolo e quindi avrò i miei difetti i miei bacchi da correggere ma saranno anche molto di meno perché l'ambizione mia è realizzare un progetto per un cliente non per tutto il mondo grazie scusami ci sono altre domande salve più che una domanda è un'osservazione condivido pienamente il discorso che una crescita delle capacità personali nel fare software possa dare un maggior boost una maggior produttività alla persona meglio essere più bravi a programmare che usare il framework di moda perfetto, lo condivido trovo invece una piccola contraddizione tra la fatica diciamo o la mancanza di slancio nel adottare un framework contro quell'esempio che ha fatto dopo del pattern nel senso ammettendo che il team non abbia questa capacità di creare pattern efficienti o comunque una programmazione efficiente un framework penso banalmente a Spring che dà per scontato o dà per fondamento dei pattern efficaci e comunque lo fa per sostanza ecco questa cosa magari nell'immediato rilascio del soft per un cliente non ha quel traino quell'efficienza fondamentale ma nella crescita del team nella crescita dell'azienda magari può portare beneficio l'adozione di un framework di quel tipo e seconda piccola osservazione secondo me nel non consegnare in tempo quello che fa tanto è anche la struttura dell'organizzazione il processo del team al di fuori del semplice software quindi se basta avere dieci programmatori eccellenti ma nella catena produttiva c'è qualcuno che non gira bene il software non viene consegnato no no è ragionissima infatti io in questa discussione mi sono concentrato proprio su come ottimizzi la fabbricazione la produzione del software stesso perché è un argomento che viene trattato di meno c'è migliaia di libri su come utilizzare scrum per ottimizzare il processo di definizione di quello che dobbiamo fare di validare che quello che stiamo facendo è quello che il cliente vuole se questa parte non è gestita bene non c'è verso di essere dei bravi programmatori sono perfettamente d'accordo con te il punto di domanda che mi chiedevo è ok ho ottimizzato la mia la maniera in cui io pianifico il software però lo sviluppo non è ancora abbastanza veloce cosa faccio? tornando all'altra domanda il discorso del framework è abbastanza ci sono un sacco di sfumature per esempio se tu sei in un'azienda che fabbrica un sito web nuovo ogni mese probabilmente usare una roba tipo Rails o Play una cosa simile ti conviene è anche vero che se tu sei in un'azienda di questo tipo il software che scrivi non è molto complesso perché il software che interessa a me è il software che deve durare per degli anni e contiene il core business di un'azienda e contiene delle logiche difficili in questo caso comunque la tua azienda può decidere che il suo stile dipende dal tuo team e dalla tua azienda il suo stile è di usare un certo insieme di tool va benissimo personalmente io penso che framework come Spring vadano bene per insegnarti alcuni pattern ma una volta che li hai imparati basta fai senza perché voglio dire fare dependence injection passi gli argomenti nel costruttore gli passi nei metodi e non ho bisogno di un framework per farla cioè capisco il valore del framework per insegnarti delle cose che non sai io ho imparato un sacco dai framework ma poi togli le rotelle e pedali senza secondo me secondo me poi ogni azienda e ogni team fa a modo suo sì una domanda un po' un po' diversa volevo sapere se voi durante lo sviluppo utilizzate anche delle board fisiche e se sì come coniugate le informazioni che poi ci sono sulle board alle attività con eventualmente dei software per la gestione poi del progetto se c'è il rischio di avere delle ridondanze sì allora ThoughtWorks generalmente sviluppa con team distribuiti e in questo caso lo strumento elettronico è abbastanza importante e secondo me è utile avere la doppia funzione cioè lo strumento elettronico serve per coordinarsi fra le diverse sedi e poi in locale hai l'informazione sul muro però sì effettivamente c'è comunque un po' di duplicazione grazie grazie e buona giornata e datemi il feedback sul baracchino che c'è in fondo alla sala per favore grazie a tutti grazie a tutti